Amici di Città di Ariano, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Maria Carmela Serluca, Assessore alle politiche economiche del Comune di Benevento. Benvenuta dottoressa. Buongiorno, grazie. Nel corso del Consiglio Comunale del 9 aprile sono stati approvati il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2019. I due provvedimenti sono strettamente connessi, dato che il documento unico di programmazione fornisce gli indirizzi strategici e operativi per l'approvazione del bilancio di previsione. A questo proposito, quali sono le linee guida alla base della programmazione politica e della progettazione economica del Comune di Benevento e, soprattutto, quali sono le risorse che il bilancio di previsione muove? Sì, questa settimana abbiamo approvato il bilancio di previsione, abbiamo avuto una maggioranza compatta e 23 voti favorivoli. Questo è il documento più importante per un'amministrazione perché ci permette appunto di gestire in quanto il bilancio è un documento autorizzatorio, nel quale sono esplicitate tutte le linee programmatiche che sono stabilite appunto nell'ambito delle linee politiche che vengono date, di indirizzo che vengono date all'amministrazione. È da tenere presente che noi siamo in una situazione di dissesto, quindi il nostro primario obiettivo è quello del riequilibrio delle spese, quindi una posizione di riequilibrio finanziario a cui dobbiamo tendere. Questo che cosa vuol dire? Che con le risorse che noi abbiamo a disposizione, quindi i tributi, i trasferimenti dello Stato, dobbiamo coprire la parte che riguarda le spese correnti, ma rispetto alla programmazione della città mi permetto di dire che quello che è rilevante, quello che è l'obiettivo che in amministrazione si deve porre, sono appunto le spese di investimento. E a Benevento appunto abbiamo una serie di progetti, 18 progetti del bando periferie che verranno finanziati dal Ministero, i PICS e l'housing sociale che sono tutte spese di investimento che tendono a portare maggiore sviluppo, una diversa connotazione della città. Anche rispetto a questo le politiche nazionali sono quelle che impattano anche sul nostro bilancio. Pensiamo ad esempio al bando periferie, abbiamo dovuto, e quindi questo ci ha creato un'ulteriore restrizione sul nostro bilancio, a postare un finanziamento da chiedere a Cassa Depositi e Presidi per finanziare il bando periferia, da restituire quando il Ministero ci darà i soldi. Quindi ci sono tutta una serie di condizioni, di vincoli che comunque gravano sul nostro bilancio, ma l'obiettivo primario è quello di dare ai cittadini i servizi indispensabili. Lo abbiamo sempre fatto, lo abbiamo sempre garantito, abbiamo garantito i servizi sociali e proprio in questo bilancio è stata data particolare attenzione non soltanto ai servizi sociali destinati alla generalità di utenti, pensiamo anche alla mensa, ma anche a servizi per la disabilità eccetera, ma anche tutti quegli altri servizi indispensabili di cui la città si deve essere, dobbiamo garantire alla città. Quindi il Sindaco ha dato priorità a quelle che sono le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole per poi chiedere i finanziamenti necessari per adeguare questi edifici alla manutenzione delle strade e attenzione al sociale. Per quanto riguarda le entrate invece, nello specifico il carico fiscale, quali novità ci sono per i cittadini? Per quanto riguarda le entrate, purtroppo la città di Benevento, come ho appena detto, è in una situazione di dissesto finanziario, quindi questo ci obbliga a tenere tutte le aliquote al massimo, ma questo purtroppo già da prima che arrivassimo noi, quindi ci stiamo muovendo sullo stesso solco, proprio perché anche la condizione di riequilibrio in cui si trovava prima la città imponeva quindi di avere le aliquote al massimo, quindi nessuna differenza da questo punto di vista. L'unica cosa che ogni anno viene rimodulata è la tassa sui rifiuti, che è un punto dolente, nel senso che risulta essere anche abbastanza alta, ma in questo è necessario che ci sia una programmazione di tipo regionale, perché uno dei nostri costi maggiori riguarda lo sversamento dei rifiuti negli stir e quindi con l'incendio dello stir di Casalduni, questo ha comportato per la città di Benevento andare a sversare fuori provincia, con notevoli costi ancora più alti e quindi purtroppo abbiamo dovuto prevedere una incidenza che è stata minima in realtà sulla tassa rifiuti, ma per condizioni che non dipendono da noi. Anzi, il mio impegno era quello di fare in modo che la tassa rifiuti rimanesse inalterata, ma purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con questi costi molto più alti per lo sversamento, per il trasporto dei rifiuti fuori provincia e cercando di efficientare anche la nostra partecipata a Asia in termini di miglioramento dei mezzi che erano stati alluvionati nel 2015, quindi adesso avendo risistemato i conti dell'Asia possiamo iniziare a pensare delle spese di investimento anche per l'Asia per un miglioramento dei servizi, potenzieremo anche con l'assunzione a tempo determinato lo spazzamento in città per cui stiamo cercando di fare un miglioramento dei servizi tenendo conto di quelle che sono le risorse. Quindi per le altre invece abbiamo dovuto mantenere le stesse aliquote e quindi la stessa previsione di entrata per gli altri anni. Passiamo alle spese. Cosa è stato fatto per razionalizzarle e soprattutto sono stati messi in atto degli interventi tesi a tagliare i costi della politica? Rispetto a questo fronte noi abbiamo, proprio per la condizione di dissesto in cui ci troviamo, delle prescrizioni ministeriali a cui dobbiamo ottemperare, quindi ci sono vietate una serie di spese perché dobbiamo tendere al riequilibrio finanziario del Comune. Quindi su questo sto anche particolarmente attenta nell'appostare le spese che siano in linea con tutti questi vincoli di bilancio e con le prescrizioni ministeriali. Questo che cosa significa però? Mi permetto di aggiungere. Mi permetto di aggiungere il fatto che noi abbiamo sempre garantito ai servizi indispensabili. Quindi rispetto alle spese, cosiddette spese della politica, appostiamo quello che è strettamente necessario, proprio perché siamo monitorati strettamente dal Ministero. Per quanto riguarda invece le altre spese, sono spese che riguardano i servizi indispensabili che dobbiamo rendere ad una città. Quindi la città ha necessità di avere determinati servizi e il Comune, proprio perché riscuote i tributi dai cittadini, deve mettersi nelle condizioni di rendere i servizi, soprattutto quelli indispensabili. Quindi in un bilancio come quello nostro, che tecnicamente viene definito rigido, dove le spese del personale, quindi tutte le spese obbligatorie, le spese per servizi, le spese per utenze, le spese per gli organi istituzionali, assorbono la maggior parte delle risorse del nostro bilancio, viene abbastanza limitata la spesa su cui possiamo andare a incidere, la spesa discrezionale, ma che comunque volta a dare e garantire i servizi ai cittadini. Quindi tutto quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo appostato sui servizi sociali, per cui un'attenzione massima rispetto alle spese che andiamo a realizzare nel corso dell'anno. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Ecco, cosa risponde a chi sostiene che sono state azzerate le spese per le politiche giovanili, per il mercato del lavoro e per la tutela delle risorse idriche? Cosa rispondo? Rispetto a questo ci sono delle priorità che vengono date a determinati organi istituzionali. Per quanto riguarda la polemica che riguarda le politiche giovanili, credo che sia un problema, come l'ha definito l'opposizione stessa, un problema tavico, non solo della città di Benevento, ma di tutto il sud Italia. Questo che cosa significa? Che il Comune non ha nel suo... il Comune deve garantire i servizi per la cittadinanza, ma le politiche che riguardano i problemi dei giovani, la disoccupazione, io credo che spettino ad un livello più alto del nostro. Per cui le politiche che bisogna fare per sostenere i giovani, per sostenere l'occupazione, sono politiche che riguardano soprattutto a livello statale e a seguire a livello regionale. L'ente comune può agevolare e deve mettersi nelle condizioni di agevolare la vita dei cittadini, di fare il massimo possibile, però sono le politiche nazionali, mi permetta di sottolineare che devono tendere verso gli obiettivi del benessere, dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e risolvere il problema, cercare in qualche modo delle politiche per risolvere il problema atavico appunto della disoccupazione giovanile, della disoccupazione a tutti i livelli, soprattutto nel sud. Quindi noi abbiamo cercato di fare il massimo possibile rispetto a quello che abbiamo potuto fare. Nell'alvio dei nostri compiti istituzionali, quindi risorse, come ho detto, il nostro bilancio è un bilancio rigido, quindi abbiamo dovuto razionalizzare le spese in un determinato modo e politiche che esulano da quelli che sono i compiti istituzionali del comune in relazione a cose che riguardano tutta la, mi permetto di dire, soprattutto il sud Italia, cerchiamo appunto l'appoggio di organi che siano più in alto di noi e a questo sono istituzionalmente deputati. La ringraziamo dottoressa per essere stata in nostra compagnia e la auguriamo buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro a voi. Grazie a tutti, buon lavoro a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.